Oltre all'Uomo Economicus è un percorso formativo che è aperto a imprenditori, dirigenti, consulenti e anche a persone che vogliono chiaramente partecipare al problema. Ha l'obiettivo di promuovere una discussione, una riflessione sul perché il modello organizzativo dell'economia civile può rappresentare un elemento di creatività e di competitività per l'impresa. Un programma nutrito come si dipanerà? Sono tre incontri che si svolgono a Montegiove, il sabato dalle 9 alle 12.30. Il primo incontro è il 24 di ottobre, dal tema il ruolo dell'impresa nell'economia civile. Il secondo è il 14 di novembre, il rapporto tra lavoro e impresa. Il terzo è i beni relazionali in economia. È aperto a tutti, quindi è rivolto a imprenditori, dirigenti e consulenti, ma è rivolto a tutte le persone che hanno piacere di approfondire il tema dell'economia civile.